Grazie Ho una grande squadra che ho avuto molto in questi anni, in questi anni sono anche difficili, per cui ho avuto obiettivamente anche le liste, devo dire grazie per il suo lavoro, ho avuto moltissimo in questo periodo, la storia da campagna è anche abbastanza difficile, impegnativa, anche in tutto il mondo. Ho fatto una domanda su certi effetti personalmente, sapete che mi piace molto stare in mezzo alla gente, mi piace costruparmi, stare nel Sacre, come dico sempre ho dato un po' la delega nel Sacre, perché mi piace molto, però devo dire che sono il più bravo del mio Stato, Matteo, sono molto bravo. Ho fatto una campagna molto intelligente, con i toni che io preferisco, tranquillo, senza esagerare mai, senza rispondere ai liti, non mi piace. Io sono contento con quello che abbiamo fatto, sono contento, grazie a Matteo, sto molto bravo, a Giovanni Germanti, ma anche a tutti i miei, a partire da Jessica, a Roberto Fusetto, a Franti Pane, quante foto hai fatto tanto? Eh beh, dopo lo prendiamo, ho una centesima foto, eh, caro, e le conseguenze sono veramente contentissimo. Ecco, il sindaco? Ecco, io ho accogliato in testa, non ci va, hanno cercato di tirare in mezzo in tutte maniere, non ho imposto mai, continuano a rispondere, a me non toccano queste cose, io sono per stare tutti insieme, per fare cose per fare, ma mi interessa questo, io adesso non mi interessa veramente, il primo suo modo di fare, il suo stile. Adesso sono stato presentato attorno alla città, ho visto tanto affetto, tanto, al di là delle applausi, tanto affetto. Io penso che abbiamo avuto bene questi anni, questa è la dimostrazione che abbiamo fatto un buon lavoro, sarà dura i prossimi anni, per cui io penso che tutti quelli che insieme, o dire tutti insieme, o dire tutti anche la città, io ripeto, per esempio, io sono un segno, non ho parte politica, a me interessa la città, io ho partito, lo dico per la prima volta, in Padova, non l'ho anche partito, ho rispetto il partito, mi aiuto, mi hanno dato tanto, le liste, tutti quanti, però io penso alla città in Padova, è quello che mi interessa, quello che fa rendere orgoglioso, chi mai avrebbe immaginato di fare, non solo il segno, due volte il segno? Abbiamo tanti progetti, mi serve per tutto, perché abbiamo tanti progetti, insieme, ci stanno a fare, che non riusciamo a portare davanti, insieme, è una occasione unica, le risorse del PNR, PNR sono tante, e mettere tutta a terra, insieme ai fondi, sono un grande futuro, i grandi dirigenti, i grandi funzionari, i grandi staff, io veramente sono contento quando ho lavoro tutti a sé, ho avuto uno staff in Padova, ma anche questo che ho avuto a Massimo, a Cosetto, a Jessica, a Franco Tarana, sono fortunato. Tutti questi soldi sono anche una responsabilità, perché entro il 2026 bisogna concretizzare l'Europa, altrimenti c'è il chiede di buono. Per fortuna dirigente, ho dirigente, ho molti grandi persone, ovvero uno a mia sinistra, infatti non è molto bravo. Perché un mese fa avevo avuto...